buongiorno amici e ben ritrovati sul canale del commistar tecnologi io sono marco ed oggi andremo a vedere un clone molto promettente dell'apple watch serie 8 che racchiude diciamo tutte quante le funzionalità che ha l'apple watch serie 8 nel suo piccolo ma andiamo a scoprire insieme dopo la sigla eccoci qua l'unboxing veloce leviamo lo smart watch che è molto bello e qua troviamo la scatola vediamo che l'hanno rinnovata hanno cambiato i colori è molto carina questa serigrafia dorata che è anche leggermente rilievo qua vediamo praticamente le watch face nuove questa è quella dell'apple watch 9 serie 8 questo è il dt1 number one dt8 max ok che è il clone della nuova serie apple watch 8 sui lati non abbiamo nulla qua dietro abbiamo praticamente una scritta dove ci dice che ha l'nfc ma solo per aprire le porte e praticamente il pagamento alipay che da noi non funziona qua abbiamo la vai al pro e qua abbiamo praticamente il cuore code per andare all'app poi di qua abbiamo l'app qual è eccola qua la ver pro e di qua il taglio che è da 45 e per la scatola è tutto poi nella scatola troviamo il manuale delle istruzioni che in inglese e cinese veramente dettagliato vi faccio vedere quanto è lungo praticamente vi spiega tutto quanto bene guardate alle figure e anche molte descrizioni naturalmente anche qui troverete il cuore code per scaricare l'app molto molto fatto bene già da questo inizio si vede che dettagli sono curati poi qui abbiamo il cavetto di ricarica magnetico che se noi lo appoggiamo qua e tiriamo su come vedete sorpresa iniziano a fare i cavetti buoni tenuta perfetta quindi quando lo appoggiate non avete problemi e quando lo andrete a mettere in carica lui praticamente vi farà questa figura qua un tipo un orologio che naturalmente voi potete impostare se vederlo o no e se lo mettete in questa maniera dovrebbe eseguire come vedete segue eccolo qua ok molto interessante adesso andiamo a vedere le caratteristiche dello smartwatch lui è praticamente 45 x 38 2 x 10,8 mm di spessore a un display hd 420 x 485 ips full touch con 320 ppi di densità a la consueta cpu realtech 8762 dk che già conosciamo bene con tutti i croni poco energivora è molto prestante un bel mix praticamente lui ha il vetro dicono i corni di gorilla glass e la scocca è lega di zinco e naturalmente plastica qua sotto ok lui praticamente anche un cinturino in silicone compatibile con quelli apple watch da 45 ed ha una batteria al suo interno da 280 mAh a litio loro dicono che fa fra i 5 6 giorni diciamo che 4 ci dovrebbe reale tranquillamente io dalle prime impressioni mi da questo questo dato qua e i stand by fa 25 barra 35 giorni e 20 risparmi energetico con la funzione orologio a un doppio bluetooth 5.0 che sia per le chiamate che per collegarlo alla per ricevere i messaggi e in più pesa solamente 35 grammi devo dire che è un prodotto molto molto interessante da questo lato abbiamo il magic crown o rotellina rotante come la volete chiamare il microfono abbiamo il pulsante ovale e stile sempre apple watch come da quest'altra parte abbiamo una novità qua sotto abbiamo i sensori biometrici con l'aggiunta del sensore di temperatura a pelle eccolo qua e da quest'altra parte abbiamo lo speaker molto molto fatto bene rispetto al suo predecessore il display si è ampliato due cose molto importanti lui a risveglio con doppio tap oppure a sollevamento del polso adesso andiamo a vedere il suo centro di controllo dove qui abbiamo la colorazione della modalità che è solamente manuale le informazioni e il qr code per praticamente collegarlo all'app alipay che da noi non funziona e questi qua sono i controlli per mandare avanti e indietro la musica e palai e pausa da quest'altra parte abbiamo praticamente questa funzione qua serve per drenare l'acqua ma vi dico che questo loro danno per il p68 ma poi sottoscrivono che è meglio non immergerlo e io vi dico sempre che è meglio non immergerlo quindi non lo immergete da qua abbiamo praticamente per eliminare il suono qui abbiamo la torcia ve la faccio vedere un attimo accendete eccola qua il display mediamente luminoso e poi qua abbiamo una chiamata sos queste le funzioni qua sono molto interessanti questo serve per il risveglio assolutamente del polso e questo qua un'altra funzione molto interessante che serve per attivare o disattivare il sveglio al doppio tap il doppio tap a due funzioni se fate un tap solo risveglia lo smartwatch se ne fate due accederete all'assistente vocale ok questa è una funzione molto interessante vi faccio vedere qua l'ampio display con le cornici diciamo tutte quante uguali quindi uniforme e ne ha pochissime hanno fatto veramente un passavanti con il display ok vi faccio vedere un attimo le voce face e vi dico un'altra cosa questa io l'ho caricata dall'app ok poi abbiamo questa che si le apple watch serie 8 sono 234567 vedete questa qua è ferma allora ho ricevuto un aggiornamento che porterà la rubrica da 20 a 200 numeri ma vi bloccherà questa voce face così non vi preoccupate perché voi dall'app vi faccio vedere la potrete ricaricare eccola qua ok abbiamo perso anche un'altra voce face che è questa qua eccola qua quindi tranquilli fate l'aggiornamento tanto poi ne arriverà un altro e così avrete 200 numeri rubrica da sinistra verso adesso abbiamo il menu a tendina o a comparsa come lo volete chiamare dove che abbiamo praticamente il livello del giorno quindi le ore e la data e il mese qua abbiamo le notifiche nei modi consone caratteri speciali e arriverà solo una parte del messaggio vi dico già che se lo abbinate invece ad un iphone avrete un messaggio molto più lungo naturalmente non potete rispondere messaggi e il messaggio arriverà con l'iconcina dell'app come vedete questa è un'email e questo invece telegram poi abbiamo il prodotto per attivare il prodotto chiamate adesso già l'ottivato e qui le ultime app che abbiamo utilizzato poi da destra verso sinistra abbiamo il widget questo è l'epilogo della giornata dei passi che avete fatto il rilevamento della temperatura il rilevamento della frequenza cardiaca questo è il meteo praticamente avete cinque giorni sotto controllo quello attuale e gli altri quattro poi da qua potete aggiungere widget per esempio possiamo aggiungere quello dell'aria eccolo qua la pressione atmosferica praticamente sono 1 2 3 4 e 5 potete aggiungere 5 potete elevarli e mettere gli altri quindi potete comporre questi widget come vi pare ok invece dal basso verso l'altro verso l'alto abbiamo tutte le app qui abbiamo come vedete il tastellino per effettuare le chiamate i messaggi i contatti non ve li apro con l'aggiornamento come vi ho detto attuale siamo arrivati a 200 contatti il registro delle chiamate quindi quelle che fate quelle che ricevete e le potete utilizzare i dati della giornata che abbiamo visto già prima gli sport li vediamo abbiamo la camminata la corsa ciclismo il salto con la corda il badminton la palla canestro il calcio la corsa indoor lo yoga questa è la formazione gratuita sport libero e l'ellittica ok diciamo quelli più comuni e da qua vi faccio vedere tutto quello che avete avete praticamente il percorso quindi in chilometri i passi che avete fatto le calorie e i battiti adesso lo soppiamo poi vi farò vedere dall'app che potete tracciare anche il percorso con il gps quindi questo pure molto interessante poi abbiamo sempre il rilevamento dei battiti le cg mi raccomando queste cose qua il rilevamento dei battiti le cg sono solamente a puro scopo informativo non sono questi prodotti non sono medici ok poi che abbiamo il rilevamento della pressione sanguigna il rilevamento dell'ossidizzazione del sangue e che abbiamo la nfc che è solamente per l'apertura delle porte quindi dove voi vedete in alberghi chiavi codificate cose del genere potete codificare la nfc dello smartwatch per utilizzarlo per aprire le porte e lo codificate tramite l'app qui abbiamo il controllo musicale molto semplice il sonno ho fatto già alcune prove e dico che vi dico già che va abbastanza bene il medio lo rivediamo qua abbiamo praticamente i vostri qr code quindi voi dall'app vi faccio vedere dopo potete caricare dei qr code per esempio di un abbonamento o di una scontistica un supermercato che potete richiamare da qua e utilizzarli quando vi servono questo è quello che vi stavo dicendo il tragitto del gps lo vediamo dopo nell'app qua potete impostare praticamente da lavoro e tutto quanto l'assistente vocale diciamo una cosa un attimo al volo sull'assistente vocale con questo assistente vocale in teoria e anche in pratica voi potete inviare anche dei messaggi perché è come se voi utilizzasse l'assistente vocale dello smartphone è proprio lui questo è solamente un collegamento ok quindi è vero che non potete rispondere ai messaggi ma io ogni tanto lo utilizzo per inviare i messaggi non sarà precisissimo però se non lo realizzare lo può fare anche per magari chiedere il tempo ed altre cose ma nella recensione profondita poi vi farò vedere come si fa qui ci sono le sveglie le potete impostare come mi pare la torcia l'abbiamo vista il pagamento all'ipay non ci interessa qua la chiamata ss potete veramente impostare i contatti urgenti da qua poi qui abbiamo la calcolatrice sempre molto utile trova il telefono queste sono gli esercizi di respirazione per antistress diciamo non per antistress questo è praticamente i massaggi al polso vibrato farà dei massaggi al polso magari qualcuno ne gioverà non so io non l'ho mai utilizzato l'assistente femminile che è sempre gradito per il gentil sesso e non me ne voglia nessuno che dico gentil sesso è ok poi qua abbiamo i siti dei menu eccoli qua a lista si le apple watch questo è sì come vedete come sono messe le icone questo è rotativo sono due stili rotativi e questi sono altri stili ma avete ben ben 11 stili ok quindi voi volete sbizzarire come mi pare questo è arrivamento della temperatura il conto alla rovescia eccolo qua oppure potete impostarlo impostarlo personalizzato avete ben due giochetti avete il puzzle e i volpi questo qua praticamente se vi ricordate quando si andava a giocare a luna park che usciva la testina da qua e voglio di dargli un colpo comunque è carino poi qua la pressione dell'aria eccola qua ve l'ho fatta già a vedere prima e qua andiamo nelle impostazioni nelle impostazioni ci sono delle cose molto interessanti qua la lingua che è compreso anche l'italiano ma ce ne sono molte questo è per cambiare il quadrante dopo vi faccio vedere una cosa dei quadranti lo schermo luminoso qua potete impostare questa funzione qua che come vi ho fatto vedere all'inizio quando caricate lui fa vedere l'orario se la deselezionate non vedrete quella schermata là poi qua sullo schermo voi avete due always on display uno analogico ed uno digitale basta attivarlo da qua e lui avrà una sorta di qualcosa un display ok ma non rimanato non rimarrà lo schermo attivo all'infinito che è solo un piccolo tempo e qua invece è il tempo praticamente cui deve rimanere acceso il display questo ha anche una funzione dove voi potete mettere sempre con quella che sto utilizzando io che se vi serve che il display sempre attivo per un periodo lo impostate questa è molto comoda questa funzione io la trovo una delle più comode che hanno questi smartwatch ok da qua possiamo regolare l'intensità di vibrazione qua la modalità di risparmio energetico quella che vi ho detto che mi farà consumare poco eccola qua qui potete selezionare la modalità dovrebbe essere quella dell'orologio o non quindi solo a sé stante oppure che comunica e qua le impostazioni della suoneria sì perché questo qua ha anche le suonerie e praticamente quando farete la ricerca dello smartphone dello smartwatch e lui suonerà anche non libera solo come fanno gli altri da un capo di impostare la suoneria della chiamata guardate avete praticamente quattro stili qua uguale la suoneria del messaggio o delle notifiche e la suoneria della sveglia quindi praticamente in questo caso molti mi chiedono sempre ma la sveglia vibra solo la sveglia in questo caso sono anche in questi sulla rocce è molto interessante perché di solito la vibrazione non è molto forte comunque poi nella recensione approfondita vi dirò comandato poi qua abbiamo le impostazioni vabbè da tornare abbiamo la nuovissima protezione della password bloccare lo svaro e di prissino alle impostazioni di fabbrica adesso vi volevo far vedere un attimo una cosa dei quadranti da qua potete impostare i quadranti e potete bloccare il quadrante se noi lo blocchiamo molto comoda questa funzione come vedete perché di solito uno in truppa qua e si spostano i quadranti ok quindi questa molto comoda vediamo se riusciamo a impostare impostarlo niente va bene lasciamolo un attimo così questo l'abbiamo visto dall'alto verso in basso l'abbiamo visto la sinistra l'abbiamo visto e praticamente vi ho fatto vedere tutte le funzioni a mi manca questa premendo il tasto qua in basso voi andrete a una sorta di non mi ricordo come si chiama questa funzione ma ce l'ha anche il telefonino praticamente queste sono le applicazioni stanno i background le potete chiudere tutte oppure da qua riaprite quella che vi serve vedete ok pure questa funzione è molto comoda ok e niente il tastino qua va qua oppure ritorna la home mentre da qua ritorna la home e spenge e riaccende per lo smartwatch diciamo che vi ho dato una panoramica abbastanza completa adesso andiamo a vedere l'app che è molto interessante eccoci qua alla pagina iniziale dell'app dove qua ci indica che è connesso questo qua praticamente per condividere i dati e qui abbiamo l'epilogo se noi andiamo a cliccare dentro è l'epilogo della giornata questa è la verpro vi ricordo questo è il sonno e io ho confrontato con quello del gts che ho al polso di qua e diciamo che l'ha rilevato abbastanza bene questo è i dati del cuore e vi faccio vedere sempre per giorno settimana e mese così come del sangue dell'ossigenazione e del rilevamento della temperatura perché come avete visto questo rileva la temperatura corporea ok da quest'altra parte abbiamo di sport è molto interessante questo perché se noi attiviamo per esempio la camminata da qua potremmo avere la traccia gps mettete consenti sempre ok andiamo come vedete qui avrete tutti quanti i vostri dati l'unica cosa che vi mancherà purtroppo in questo caso avrete la traccia ma come vedete non avete praticamente i dati biometrici ok quindi voi decidete voi quello che vi interessa di più adesso qua chiudiamo ok ma potete chiudere anche dallo smartwatch come vedete adesso lui sincronizzerà la traccia che non c'è perché non ci siamo mossi però avete la traccia che avete fatto del percorso ragazzo ci mette in auto ed eccoci qua lui ha messo la traccia come vedete adesso non c'è nulla perché non abbiamo fatto il percorso poi da qua sulla storia vediamo praticamente l'attività che abbiamo fatto sia sullo smartwatch o sullo smartphone quindi tutto in epilogo normalmente qui avete corsa ciclismo camminare e alpinismo qua in dispositivo abbiamo tutte quante le funzioni vi dice che è connesso se non è sincronizzato potete premere questo questo qua queste due fraccette qua e lui si sincronizzerà qua abbiamo i quadranti che allo attuale sono più di 200 se non mi ricordare male 245 questo è quello che voi potete modificare e le altre quelle che potete caricare questo è quello che vi ho detto che io ho ricaricato perché non funzionava più praticamente l'omino che girava sono tutti quanti belli e ci sono per tutti i gusti ok qua abbiamo trovo il dispositivo vi faccio vedere come sentite suona questo è lo scatto da remoto questo è per impostare il vero al solimento del polso ma lo potete fare anche dallo smart watch pro memoria chiamata attivatelo il pro memoria sms pure questo attivatelo che abbiamo la nfc da qua potete programmare la nfc per condividere il vostro obiettivo da visita oppure un email quando voi accosterete lui vi andrà ad aprire l'app email in modo tale che potete mandare le mail a quell'indirizzo che avete impostato ok ma ci sono altri programmi che vi fanno fare anche altre cose le notifiche dell'app abbiamo queste qua come vedete quelle principali che ci sono nello smart watch diciamo che ci sono quasi tutte quelle principali che a me servono poi qua abbiamo il mio qr code era quello che vi dicevo voi da qua praticamente potete caricare quel qr code come vedete qui su altri tipi oppure potete anche utilizzare queste caselle qua e poi lo richiamate praticamente e lo smart watch per utilizzarlo poi abbiamo le chiamate brutto il rilevamento del battito cardiaco lo potete impostare come vi pare a un intervallo un minimo 10 ogni 10 minuti anche perché se fosse ancora più corto la batteria durerebbe poco questo è il test ecg i contatti frequenti appena arrivato ne aveva solamente 20 con l'aggiornamento sono arrivati a 200 io ho fatto una prova ne ho caricate i 30 non ne caricate tanti perché è inutile che dopo un casino e poi mi raccomando caricateli in ordine di importanza perché sennò non avendo la ricerca per nome nello smart watch sarà un casino per trovarli quindi quelli più importanti caricate nei primi 10 o nei primi 20 come preferite voi qua su altro abbiamo voleranno disturbare quindi potete impostare un orario di inizio e di fine e qua come vedete con la modalità non disturbare attiva lo schermo lo schermo non si accenderà per le notifiche quindi arriva la notifiche non si accenderà nelle chiamate d'entrata però lo schermo continuerà ad accendersi con le sveglie e con la funzionalità di sollevamento al polso che quella la dovete disattivare direttamente dallo smart watch l'impostazione delle sveglie devo impostare da qua ma anche dallo smart watch il promemoria acqua quindi quando voi dovete bere e modella promemoria qua potete scegliere se quando vi arriva una notifica schermo luminoso shock oppure solo shock potrebbe vibrazione oppure solo vibrazione oppure solo schermo luminoso decidete voi come vi verrà notificata la notifica scusate il gioco di parola andiamo avanti e se no ci alleniamo questa è la versione al software vi dico già mi è mirato un aggiornamento con quell'aggiornamento è successo quello che vi ho detto e questo è per disconnettere il dispositivo qua abbiamo visto tutto se andiamo in mio abbiamo le informazioni personali non ve le faccio vedere perché mi vergogno di farvi vedere il mio peso con tutti questi smart watch dovrei fare sport ma non lo faccio scusatemi però inizierò a farlo così proviamo bene il smart watch sotto sotto l'aspettativa dello sport scusatemi che mi sono divulgato dilungato abbiamo le impostazioni della mappa quindi praticamente potete impostare una cartina google mappa con l'impostazione di target quindi praticamente quanti passi dovete fare al giorno e quante ore di sonno dovete raggiungere sono i target si chiamano target quale informazioni sull'app ok potete anche mandare dei feedback o mandare delle informazioni per dire che l'app non funziona in quel caso la e poi qua le condizioni servizi e contattaci bene come avete visto questo è molto completo ha fatto dei passi avanti quindi è stata un implementazione del suo predecessore specialmente lo schermo vi faccio vedere è molto bello ha implementato praticamente i quadranti ha implementato il sensore l'unica cosa trova un po chip sono questi cinturini ma voi naturalmente li potete staccare come vedete ve lo faccio vedere la profondità comunque si possono levare vedete e ne mettete un altro modello e tra altre cose vedo che sono molto sa come vedete sono molto saldi e quindi non vi daranno nessun problema come vedete hanno un grip molto buono meglio che siano così ok qua sotto in descrizione metto il link dei canali amici malati di smartwatch di levotech e di tutti gli affezionatissimi del canale del commistar technology vi do un abbraccio attivate la campanellina perché poi farò la recensione approfondita di questo e di altri prodotti e stanno arrivando anche altri prodotti croni dell'apple watch ultra e un like per il sostegno non vi chiedo soldi non vi chiedo nulla ma vi chiedo un like solamente un ringraziamento e ci vediamo la prossima